Il caso scuole a Teramo diventa nazionale, lei sindaco ha incontrato il ministro della pubblica istruzione. Ho detto al ministro che noi dobbiamo garantire, quando dico noi dico il sindaco del comune di Teramo, il presidente della regione, il commissario Errani, Curcio, ministro Fedeli, il presidente del consiglio Gentiloni e anche il presidente della repubblica, ai quali rimetterò nella giornata di domani una relazione puntuale sullo stato delle scuole e chiederò, così come ho chiesto a Fedeli ieri al ministro, di avere dei moduli provvisori o in alternativa la possibilità di portare avanti un progetto già iniziato per 900 posti, 900 all'uno. Diversamente rischiano di non tornare a scuola questi ragazzi? Su questo io adesso dare messaggi allarmistici non serve. Io direi che adesso intanto stiamo lavorando. Io avevo deciso di andare in ferie qualche giorno, evidentemente le mie ferie sono state rimandate, ma non è un problema, sto qui davvero a lavorare con grande determinazione e con grande volontà. Adesso sto andando in prefettura per un incontro che c'è col prefetto sempre sul tema delle scuole. Ho deciso che istituirò un tavolo di coordinamento, di protezione civile sulle scuole. A questo tavolo faranno parte, perché si tratta di una situazione di protezione civile, farà parte ovviamente il sindaco e gli assessori competenti, farà parte il gruppo dirigente del Comune di Teramo, chiederò di far parte anche al Presidente della provincia. Ci faranno parte sicuramente i dirigenti scolastici e ci faranno parte sicuramente anche i tecnici che hanno fatto le verifiche sismiche. Il Ministro le ha promesso qualcosa? Il Ministro mi ha detto che ha in questo momento a disposizione 10 milioni di euro di risorse sue, proprie del suo Ministero, che ha messo a disposizione proprio per queste situazioni. Io sono il primo che in qualche modo ha messo il dito nella piaga e lo ha rappresentato al Ministero. Qualche altro Comune ha chiesto risorse per altri motivi. Mi ha invitato a rimettere questa relazione puntuale sulla quale stiamo già lavorando da stamattina e poi vedremo, aspettiamo. Nel frattempo noi contiamo a lavorare per la programmazione perché l'11 settembre si deve andare a scuola e l'anno scolastico deve riniziare quest'anno con maggiore serenità e tranquillità.